Mercoledì 16 novembre la città di Arezzo sarà protagonista di un evento di livello internazionale perché la scrittrice Katrin Dunn, scrittrice irlandese, sarà presente qui in città. Katrin sarà alle 9.30 la mattina ospite del liceo scientifico, ready per un incontro con gli studenti del liceo stesso. Nella stessa sede alle 16 verrà ribissato questo incontro culturale aperto anche all'istituto Vittoria Colonna e al liceo classico Petrarca che per primi hanno sposato il progetto stesso ma saranno aperti anche agli studenti, le studentesse e gli insegnanti di lingua anche degli istituti comprensivi. Infine alle 19.30 la giornata si concluderà con un aperitivo letterario aperto alla cittadinanza presso il Feltrinelli Point dove Katrin Dunn potrà oltre che parlare con i fan anche proprio fare foto, autografare i libri e appunto scambiare opinioni anche con le persone che già dalla mattina avranno seguito il percorso. Durante la giornata il fotografo retino Lorenzo Magistrato sarà un po' il tutor di alcuni studenti e studentesse dello scientifico per ciò che concerne un reportage videofotografico. Perché l'Associazione Sempre Positivi ha deciso di sposare questa iniziativa? L'Associazione Sempre Positivi raccoglie essenzialmente professionisti che hanno come Trend Union il counseling relazionale. Un po' perché questo evento è dedicato alle scuole quindi ai ragazzi che sono proprio la materia di Sempre Positivi un po' perché nella letteratura di Katrin Dunn si ritrovano molti riferimenti al miglioramento della relazione e alle relazioni malate questa manifestazione è proprio adatta al nostro tipo di associazione.